Giovane e molto preparato di cui io ho avuto anche la fortuna di poterlo conoscere però in questo fenomeno è più grande di lei, non è gestibile quindi prende i suoi provvedimenti, sicurezza per i cittadini che al mattino si alzano alle 5 e vanno a lavorare per pagare le tasse che lei ci impone sicurezza, io pago le tasse, spazzatura, per avere una spazzatura che non serve, scusatemi il termine in gergo, un cazzo, non serve a niente, bidoni sporchi, topi nella città, racchi, spazzatura e malattie, melingite, scappia, abbiamo di tutto a 20 miglia, è un degrado generale E' preciso un'altra cosa, io vengo da un grande lutto, mi è morta una sorella di 51 anni in Sicilia oggi sono venuta qui perché non è posto più in via Sansecondo non si dorme alle 3, non si dorme alle 4, aprono il caseggiato del vetraio dormono lì, sputano, pisciano, cagano, fanno sesso, mi hanno rotto la macchina del vetro dov'è lei, sindaco e amministratori? dove cazzo? alle carattere! allora, allora, io le dico, io le dico un'altra cosa ma ho fatto volontariato per due anni alla Caritas sono tre mesi che non vado, sai perché? perché mi sento male, sembrano carne da magello sti ragazzi quando vengono a prendersi la bustina per mangiare aumenta il personale, sono esseri umani e vanno rispettati come siamo rispettati noi ma non in questo modo! non in questo modo, solo per interesse fate questo la comunità europea dà i soldi per ogni immigrato 52 euro per gli adulti e 84 euro per i piccoli benvengano i ragazzi minorenni ma devono stare alle nostre regole dignità per le nostre donne dignità per la nostra religione dignità per il nostro culto io sono credente ed è un bando essere cristiana non musulmana ognuno ama Dio nella propria maniera ma bisogna avere rispetto anche su questo non imposizione, non dittatura ma di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di vite umane e non apprezzo una vita umana non ci sono soldi per questo non ci sono soldi e non mi venite a fare buonissimo io faccio volontariato io faccio quello poi usci e escono da lì e mi sento di resti neri vergogna bisogna pulire le persone bisogna avere una coscienza quando si fa il lavoro e quando si assumono le proprie responsabilità carissimo sindaco conosco le sue appartenenze e so che è una famiglia per bene ne faccio riflessione come tutti quelli che siamo qui dobbiamo riflettere non emarginare accogliere ma con rispetto ed educazione delle nostre regole le nostre regole grazie grazie grazie